Ciao a tutti da Vincent DiGeli, sono tutti i suoi grandissimi Pio e Amedeo! Un cazzo! Ma quella è l'interessante! Salutiamo tutti gli amici di Youtube, MySpace, Facebook, Twitter, tutti i tuoi! Tu non c'hai un cazzo da fare durante la giornata? Quelli del padre! E tutti i fans delle Ieli e di Pio e Amedeo! Ma c'hanno tutti i fans suoi che sono di più di tutti i quali! Non ce l'ho! Salutiamoli! Ciao ragazzi!